Il tema centrale chiaramente in un'occasione come questa, inaugurazione di un anno accademico, è la scuola. Allora, quali sono le domande che si pone la scuola oggi rispetto alla scuola di ieri? Quindi, innanzitutto cominciamo col dire che i processi di cambiamento nella scuola di oggi sono molto veloci, per cui richiedono un impegno progettuale nella ricerca di quelle che possono essere le risposte efficaci che le istituzioni, i docenti, la famiglia, anche gli allievi stessi devono dare alle sfide educative poste dalla nostra società. Che, come sappiamo, è una società complessa, molto complessa, pluralista, interculturale, quindi vi lascio immaginare. Teniamo presente che i giovani che noi prepariamo oggi sono quelli che un domani diventeranno, come dire, sono i top leader nelle aziende, leader nel mondo, quindi dobbiamo, secondo me, la scuola in generale deve educarli alla capacità di analisi critica, all'indipendenza di giudizio, a non farsi, come dire, accondizionare. Va detto che le vittime di reato rappresentano da sempre la parte più debole, più indifesa e soprattutto meno tutelata da parte dell'ordinamento giuridico. Nel momento stesso in cui si è vittima di reato si è subito un danno, non solo ingiusto, ma addirittura illecito e penalmente rilevante. La cosiddetta cultura del vittimismo demagogico ha per troppo tempo oramai proiettato in un pericoloso cono d'ombra le vere vittime indifese e talvolta indifendibili del sistema. Soggetti inconsistenti, quasi invisibili e più, costretti a dover fare i conti con sempre attuali pregiudizi sociali e con crescenti difficoltà reali che la burocrazia impone ai cittadini più deboli. La tutela giuridica di Costoro è di fatto ammessa solo se si è abbastanza ricchi ed abbastanza forti psicologicamente. In alcuni frangenti verrebbe più naturale, in un contesto come quello contemporaneo, lasciar perdere, fare finta di nulla, fare un passo indietro, chinando addirittura il capo. Ma è proprio in questo momento però che le istituzioni devono assistere le vittime ed aiutarle preliminarmente a capire, ad avere consapevolezza e da non perdere la propria dignità. Vittime di reato nel senso di un genus rispetto al mia species più ridotta, che si riferisce esclusivamente a due settori, settori d'allarme molto evidentemente forti in questo momento e di impatto sociale notevole, quali sono le vittime della strada e quelle della mala sanità. Sono due veri e propri problemi, due fardelli che gravano sull'economia del Paese, ma che gravano sostanzialmente anche su tutto il piano strutturale nazionale. Vediamo come si pone un e-mail in questa chiave, come si pone soprattutto quello che vuole fare, sia tramite ovviamente il professore Rosito, sia tramite il protoscritto, per gestire soprattutto e dare un criterio strategico e qualcosa di innovativo per il bene della collettività e soprattutto per la tutela dei deboli. Ecco, penso che sia questo il concetto principale e fondamentale di un e-mail che vuole difendere chi non è psicologicamente o materialmente in grado di essere ricco e forte. Parlando di salute ci si trova di fronte a una situazione nella quale spesso i giovani diciamo non hanno attenzione, non pongono attenzione. Salvo i casi di disabilità, salvo i casi di malattie rare che purtroppo colpiscono anche i giovani, i giovani cosiddetti in buona salute non pensano al futuro, però questo è un grosso limite perché la salute dipende molto dai comportamenti e dagli stili di vita che si hanno da giovani. Quindi un invito forte va anche ai giovani nella direzione di essere consapevoli che darsi delle buone regole di vita, io vicino a me Giovanni Lodetti, per esempio praticare lo sport non è solo un aspetto di sport, non è solo il tema della competizione ma è anche un buon strumento per garantire, per consolidare una buona salute in età adulta. Chi ha un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale e riesce a individuare un trend diciamo in tempo è chiaro che dispone la propria attività con il vento in poppa perché la strategia è la ricerca dei vantaggi competitivi, ma questi vantaggi competitivi variano nel tempo. Ma che cos'è il trend? Perché il trend emerge? Questa è una cosa importante anche se sembra banale. Quando è che un trend emerge? Un trend emerge ogni qualvolta c'è un'aspettativa diciamo di soddisfare un bisogno fondamentale umano in maniera diversa e quindi si creano nel mercato questi nuovi comportamenti, queste aspettative che hanno un'evoluzione naturalmente perché non tutti adottano per esempio una nuova categoria di prodotto, un nuovo schema di pensiero. Ad un certo momento anche perché molti rifiutano i trend e purtroppo rimangono indietro. Noi abbiamo pensato, visto che ci piace entrare nel discorso di concretezza, a un paio di corsi che si svilupperanno in questi inizi di attività universitaria, appunto andando a interessare due ambiti. Un ambito di prevenzione al disagio giovanile attraverso la figura di una profiler che è un esperto nella lettura dei giochi e dell'attività sportiva per proporre questo strumento, il gioco e l'attività sportiva, a una comunità legale che potrebbe essere interessata nella trattazione di attività limite dei ragazzi che andando incontro al disagio possono rispondere attraverso lo strumento sportivo e la lettura dello stesso, in modo tale che gli stessi operatori legali possono proporre delle risposte di prevenzione che poi sia spendibile in campo giuridico e giudiziario per dare degli correttivi agli stessi giudici e offrire delle letture che siano meno invasive e quindi offrire un percorso di riadattamento culturale, fra le corrette educativo e preventivo, di interesse. Lo sport costituisce l'unico alfabeto comune tra popoli e nazioni di diverse dimensioni economiche, politiche e culturali. Basti osservare che ciò che avviene ad esempio nei centri di prima accoglienza per i rifugiati, dove un semplice spazio aperto che ricordi vagamente un campo di calcio ed un pallone rincorso da un gruppo di uomini di diversa nazionalità, lingua e credo religioso sia sufficiente per aderare tali diversità, per generare un sorriso e trascorrere attimi di spensieratezza. Oggi lo sport proietta la società verso sconfinati orizzonti e la permere in ogni suo aspetto. Questa doverosa riflessione è necessaria per comprendere la miriade di interessi che ormai investe lo sport ai giorni nostri e ciò vale anche per noi che ci accingiamo a inaugurare un dipartimento che si occupa di sport e che in qualche modo dovrà potenzialmente trattare gli innumerevoli argomenti nei più svariati settori che lo caratterizzano. Targa Vivi Salute Hour per la collaborazione con le imprese del settore al fine di offrire servizi e personale qualificato da inserire nell'azienda per l'utilizzo dei nuovi strumenti per l'inserimento lavorativo quali garanzia giovani, dote lavoro, sistema duale, alternanza scuola lavoro per il costante impegno nei confronti del mondo dei giovani nell'offrire percorsi professionali per facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro e l'inclusione sociale. È una targa che viene data col cuore e veramente con la gioia di poter evidenziare persone che si spendono con tanto entusiasmo e con tanti risultati in questo settore. Io vorrei sottolineare come il motivo, tra virgolette, anche di questa premiazione fa riferimento a un nostro impegno e a un percorso che abbiamo avviato. In questi anni il CAPA, che è un soggetto che ha formato circa 70.000 persone, da noi si rivolge il mondo dei giovani, da 50 anni che c'è per quello che è arrivato questi grossi numeri, si rivolge il mondo dei giovani, si rivolge soprattutto il mondo anche delle persone adulte che hanno necessità di avere un nuovo progetto di vita e di rinserimento lavorativo. Sulla base di questo, da due anni a questa parte, abbiamo introdotto le politiche attive quindi stiamo accompagnando, non solo formando, ma accompagnando verso il mercato del lavoro alle persone, attraverso le strumentazioni e soprattutto arriveremo a un risultato finale nel giro di un annetto avviando anche un processo di attuazione di acceleratore di impresa quindi accompagnare sia i giovani sia gli adulti all'avvio di impresa mettendo a disposizione il nostro know-how e le tecnologie di cui disponiamo. Quindi raccogliamo davvero con piacere e ci auguriamo che ci sia da oggi una sostanziale collaborazione con l'associazione. Il Corecom è organo regionale indipendente di garanzia che svolge funzioni di governo, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni. Nell'ambito delle funzioni proprie di particolare evidenza l'attività di comunicazione con il completamento della campagna di sensibilizzazione sui servizi offerti da Corecom e la organizzazione di eventi su tematiche innovative e o di attualità. Scrittore, economista e critico della sostenibilità dell'arte e della cultura titolare di prestigiosi incarichi accademici in Italia e all'estero opinionista televisivo e tra i più famosi attivi manager culturali milanesi impegnati con successo nel promuovere l'Italian style nel mondo tanto da essere definito dalle principali testate giornalistiche tra virgolette ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Tra le sue molteplici iniziative di successo il libro Management Etico, Principi e Fondamenti è il film Giants in Milan, arte sostenibile prodotto nel 2016 in collaborazione con il Comune di Milano. Questa targa così è un po' tra virgolette inaspettata ma nasce in realtà poi da un momento di collaborazione con Unimeyer perché l'amica Dea mi dice abbiamo pensato di fare un nuovo dipartimento del turismo io mi occupo di sostenibilità da tanti anni anzi con Elio Borgonovi ricordavamo prima che facciamo dei bellissimi eventi in Cattolica con altri colleghi e quindi un turismo nuovo che non nasce da un'idea un po' sorpassata cioè turismo come spostamento di persone da un luogo ad un altro per un motivo culturale di qualsivoglia motivo anche di business ma turismo come incontro il viaggio è un incontro e dal viaggio noi dobbiamo uscire migliorati, edificati quindi il turismo prevede l'incontro con la cultura l'incontro con l'arte c'è un grosso afflusso di pazienti nelle nostre aziende di eccellenza da parte di tutta Italia e in questo momento anche da parte del sud dell'Europa noi siamo molto bravi all'estero ci apprezzano anche per questo sistema perché quando vengono a Milano delegazioni da tutto il mondo la domanda che fanno a noi è ma come fate, visto che non avete un terzo pagatore e che paga tutto lo Stato come fate a farlo? è incomprensibile, ad esempio per i giapponesi il nostro servizio sanitario nazionale è incomprensibile diventa difficile pure spiegarglielo questo è il servizio sanitario migliore al mondo migliore, non è neanche il secondo perché è il migliore al mondo? perché forse tecnologicamente abbiamo qualche pecca rispetto ai mostri degli Stati Uniti ma noi qui curiamo tutti e li curiamo gratis alla sua professione ispirandosi ai comuni, ai canoni, scusate di bellezza dell'arte classica promuovendo interventi estetici forieri del migliore equilibrio psicofisico della persona anche in correzione di inestetismi inestetismi conseguenti a patologie più o meno gravi è molto importante vedere di non fermarsi mai magari si pensa di aver raggiunto il massimo di aver trovato delle tecnologie, delle metodiche che ci permettono di ottenere sicuramente risultati buoni però essere sempre aperti a questa continua evoluzione e sempre aperti a imparare dagli altri per portare continui miglioramenti perché non si raggiunge mai la sommità del sapere ma bisogna essere sempre aperti a continue esperienze e imparare da tutti delle nuove tecnologie e quanto di meglio si può portare per avere un'assistenza migliore al paziente Per me è veramente un grandissimo piacere premiare un professionista di tanto profilo e così voglio dire dedicato al benessere vero dei pazienti noi sappiamo quanto la sanità oggi abbia necessità di esempi di buona sanità e oggi in questo convegno è emerso con tutta la forza possibile l'importanza di guardare al futuro attraverso gli occhi nuovi di una sanità che sia veramente vocata centrata sul paziente sui suoi bisogni sulla sua necessità di salute Il professore Massimo Sargiacomo unisce a non comuni doti di ricercatore e docente universitario un'eccezionale attenzione alle persone soprattutto a quelle che si trovano in condizioni di bisogno ai riconoscimenti di tipo accademico nazionale e internazionale tra cui la presidenza dell'International Accounting History Society ha ottenuto la medaglia della Croce Rossa italiana di prima classe nel 2013 per il contributo dato durante la gestione dell'emergenza e della transizione del post-terremoto d'Abruzzo il suo alto senso critico è stato riconosciuto dalla città di Pescara con il premio Città d'Oro 2013 oltre a moltissime pubblicazioni in tema di salute è stato componente del Comitato Nazionale per la Bioetica CNB presso la presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2013 nel cui ambito ha coordinato la stesura di documenti e su difesa del sistema sanitario nazionale immigrazione e salute stili di vita e tutela della salute le demenze e la malattia di Alzheimer Massimo oltre che essere un diciamo un docente di prima classe come la medaglia della Croce Rossa è una persona che ha una umanità un senso di umanità profondo un senso dell'amicizia smisurato e quindi credo che il premio vada soprattutto alla persona di Massimo San Giacomo oltre che allo studioso negli ultimi anni ho avuto l'opportunità di lavorare anche come coordinatore capogruppo nella stesura del parere in difesa del sistema sanitario nazionale questo parere che trovate sul sito web di Palazzo Chigi recita purtroppo una situazione un po' a macchia di leopardo se mi è consentito dire sicuramente una situazione in cui inizialmente viene dipinta come cronaca di una morte annunciata Dobbiamo andare avanti dobbiamo andare avanti sapendo che le sfide sono sempre più difficili da affrontare però se ce la mettiamo tutta e se soprattutto collaboriamo potremo vincere potremo avanzare potremo cercare di mantenere non solo le persone più a lungo in vita ma le persone con una qualità di vita migliore ma soprattutto quello che conta è mettere insieme scienza, coscienza e tanta passione per sé e per gli altri grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!